Sì, guarda, adesso va tutto bene, però poi non ti raccontano quello che viene dopo quando lui va con una minorenne o si fa prete. Comunque l'uomo che cerchi in natura non esiste, e se esiste fidati che è un prete. Sei proprio uno stronzo. Ma una cosa è certa, Nina è figlia tua, è permalosa come te, cucciuta come te, anche la puzza sotto al naso come te, il legame di sangue non è obbligatorio per volersi bene. Guarda, meglio il tatuato stile Galeotto che il ragazzetto, dubbio con l'orecchino al naso. Vuol dire dubbio, ecco, sei il solito coglione che cerca di fare il macio per nascondere le proprie paure e insicurezze. Ok. Allora, allora credo a doverti qualcosa. Che cosa? Un po' di amore. Grazie. Grazie.